Stiamo andando a casa di Edoardo e Michele, se andano a fare una sorpresa, verranno con noi a fare la foto di squadra oggi allo stadio. Ciao, sono Gioao, c'è Edoardo? Grazie. Buongiorno! Buongiorno! Tutto bene? Abbiamo una sorpresa per te, guarda. Questa è la tua maglia e tu vieni a fare la foto con la squadra oggi allo stadio. Ci sei dentro? Dai, sali in macchina qua, ecco il tuo regalo, pieno e stretto, saluta Papi e mamma. Ciao, ciao, andiamo! Nella mano! Buongiorno, sei Michele? Ciao! Ciao Michele, scendi? Sì! Dai, che ti aspettiamo? Questa è una sorpresa per te. Allora, questa è per te? Sì. Vieni con noi che andiamo allo stadio. Hai fatto la tua bordazione? Sì. Eh, bravo, è importante la bordazione. No! Ti piace mangiare, eh? Sì! Questo è lo stadio. L'uomo nena, nascosti, chi è? C'è. Bravo! Dai lì in cinque, Alberto. Anche io. Dai, Alberto. Andiamo, andiamo che si fa la foto. Noi andiamo da parte, che sono i più belli, eh? Forza Casteldu! Sì! Grazie a tutti.